Ciao dolcissime dolcissimi, un altro video! Vedete questa lampada? Se notate è rossa. Spengo la luce ed è rossa. Questa è una lampada che ha 20 anni. 20 anni ha questa lampada. L'ho avuto 20 anni fa. L'ho avuto 20 anni fa, questa lampada. Ero piccolina quando l'ho avuto. Piccola, piccola, piccola. Mia sorella l'ha trovata nella veranda e me l'ha portata nella stanza. Quando l'ho vista ho detto non l'ho persa la mia lampada. Anche questo sopra fa il rosso. Questo giorno sono tutte tipologie di prima la candela, adesso è la lampada. Che dire ragazzi? Questa è una lampada rossa praticamente. A me il rosso mi piace ed è la squadra di Milano. Ma io non tifo il Milano, tifo la Juve. Me l'hanno regalato. Chi me l'ha regalato? Questa lampada credeva che io tifavo il Milano. Invece no, tifo la Juve. Guardate quanto è carino. E noi ci vediamo al prossimo video. Baci baci. Ciao!